Siamo qui al Maxi e con me ci sono Giorgio Borghetti, Francesco Brandi, Angelo Maggi perché siamo qui ragazzi? Stiamo facendo una diretta di Daskalica, due dirette contemporanee, se andate sul progetto di Giorgio e il mio vedrete che siamo in diretta contemporanea. Perché siamo qui Giorgio? Siamo qui perché siamo all'Asperger Film Festival, a SFF, a presentare Captain T, il nostro cortometraggio e quindi siamo ospiti d'onore, una serata dedicata a noi, siamo molto molto felici. Francesco, adesso ci aspettano le interviste qui, siamo all'angolo delle interviste, poi abbiamo il regista Andrea Walser che lo inquadriamo. Aspetta ti vengo a trovare, stiamo facendo una diretta doppia, Andrea Walser, regista del corto. Ciao Angelo Maggi, sono 105, io ce l'ho poco, io ce l'ho 26, sono soporaccio. Allora tutti quelli di Angelo Maggi, venite a vedere. E quindi Giorgio Borghetti ha la serenità di Angelo Maggi, facciamo una... Vabbè ragazzi, è la presentazione di Captain T che ha già vinto quanti... 19 e presto anche di più. E presto anche di più. Però possiamo dare in anteprima una prospettiva di un allargamento del corto. Allargamento del corto, a voglia. Siamo pronti col film, aspettiamo gli ultimi pezzettini, poi siamo pronti. Non mi possiamo dire nient'altro per noi. Angelo e Chiara, siete chiamati, dovete andare a fare l'intervista. Adesso andiamo a fare l'intervista, che ci hanno chiamato. Ciao ragazzi, a dopo.